Ha disegnato un'idea di un'Europa che si disgrega, che non ha un esercito comune, dove Orban mantiene il diritto di veto, dove l'Europa ha delle nazioni, dove ci si lamenta sempre di quello che l'Europa non fa, ma non si danno i poteri all'Europa per fare. È un pericolo, il disegno che ha Meloni sull'Europa è un pericolo e mi sembra un segno di regresso importante rispetto a un percorso che io speravo la portasse a essere una conservatrice consapevole ed europeista. Invece no, è rimasta quell'idea di Fratelli d'Italia, di partito anti-europeo e per definizione un partito anti-europeo, un partito anti-italiano.